I problemi nivologici principali per il fine settimana sono principalmente due. Alle quote più alte, numerosi lastroni da vento ad elevata coesione, ben localizzati, staccabili con forte sovraccarico. Al di sotto del limite del bosco e alle quote più basse permangono i problemi di scorrimento di fondo del manto nevoso. Il manto nevoso si presenta generalmente ben assestato e compatto. Il forte vento dei giorni scorsi ha determinato erosione dello stesso con ampie dorsalie rose alternate a conche avallamenti con spessori maggiori. Si segnala la presenza di numerose brine su tutti i pendie e esposizione settentrionale. Il forte vento dei giorni Grazie.